Grande partecipazione per Obesity Day, questo è il nome dell'evento che si è tenuto presso il centro congressi della Casa di Cura Salus di Battipaglia. La giornata per il paziente dedicata all'obesità e al sovrappeso promossa ed organizzata dagli specialisti del team multidisciplinare per la cura dell'obesità diretto dal dottore Ugo Bardi, responsabile del reparto di chirurgia generale e videolaparoscopica avanzata della clinica Salus. Siamo alla terza edizione di un evento divulgativo direi a sfondo prettamente sociale, a differenza degli eventi a cui siamo abituati di tipo scientifico, magari con crediti formativi. Un evento che ci viene sostanzialmente a gran voce richiesto dalla nostra utenza, a gran voce richiesto da una popolazione sempre più afflitta e tormentata da un problema molto molto importante che è il problema dell'obesità. A prendere la parola, cioè i veri relatori, volendo mutuare una terminologia di tipo congressuale, non saranno gli addetti ai lavori, non saranno gli operatori, ma saranno i pazienti. I pazienti già sottoposti a chirurgia bariatrica, pazienti candidati prossimi ad intervento chirurgico bariatrico e perché no? Sono pazienti evidentemente non convinti, non ancora a piena conoscenza di qual è il tipo di approccio terapeutico che è la chirurgia bariatrica offre alla cura della loro morbosa patologia. In realtà noi abbiamo cercato di fare un fiore all'occhiello di quella che è l'assistenza al paziente perché ci rendiamo perfettamente conto e ce ne rendiamo conto tutti che una persona che ha dei problemi ed è costretta ad entrare in una struttura ospedaliera chiaramente comunque ha un disagio. Quindi il fatto di cercare di stare vicino a queste persone, umanizzare il rapporto con queste persone è un fatto fondamentale. Questo naturalmente è grande merito del nostro personale parasanitario che si occupa di queste cose e inoltre noi cerchiamo anche di dare, anche per quello che riguarda la parte alimentare al paziente, cerchiamo di dare il meglio possibile con cuochi professionisti, con derrate alimentari a chilometro zero perché come tutti sappiamo, come ci insegna la dieta mediterranea, diciamo che la prima cura, il primo medicinale è proprio il mangiare bene per avere una vita quanto più corretta possibile.